italia campione d'europa notte di festa a pesaro dall'europeo le olimpiadi 30 marchigiani partono per tokyo will inaugurata la sede di pesaro alla presenza del segretario bombardieri amici della prosa dopo 20 anni paccapelo cede la presidenza a sebastiani una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitali terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale di rossini tv con tutte le principali notizie della provincia di peso urbino e della regione marche telegiornale di lunedì 12 luglio una data molto speciale che arriva a meno di 24 ore da un trionfo davvero meraviglioso quello dell'italia di roberto mancini che ha vinto l'europeo di calcio 53 anni dopo l'unico trionfo della nazionale nelle torneo continentale una gioia irrefrenabile in tutte le città e le piazze italiane e anche a pesaro i festeggiamenti non sono mancati nella notte che ci siamo lasciati alle spalle vediamo tricolore al vento e maglia azzurra in spalla e ancora caroselli clacson srombazzanti di auto in coda umogeni fuochi d'artificio cori e l'immancabile bagno nella fontana della palla di pomodoro e c'è anche chi si è pure arrampicato sulla cima della sfera anche per pesaro come per tutte le città dello stivale la notte fra l'11 e il 12 luglio è stata notte di festa scatenata per il trionfo della nazionale italiana laureatesi campione d'europa per la seconda volta nella sua storia a pesaro come prassi di ogni grande trionfo sportivo viale trieste e la palla di pomodoro sono stati i luoghi del delirio azzurro luoghi del lungomare cittadino che ben prima dell'inno di mameli risuonato nel tempio di wembley hanno visto centinaia di pesaresi assieparsi davanti a tv e maxi schermi di bar pub e ristoranti prima per tribolare davanti ai 120 minuti dell'1 a 1 fra italia e inghilterra poi per gioire sul tripudio emotivo dei calci di rigore 15 anni dopo il mondiale vinto dall'italia di lippi riecco dunque la festa azzurra grazie a un trionfo costruito da un marchigiano doc roberto mancini da jesi che proprio quest'anno è diventato testimonial della promozione turistica della nostra regione insomma dopo un mese in cui si è diventati ancor più fieri di essere italiani essere pure marchigiani aggiunge un altro debordante carico di orgoglio e le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece a come si presentava la palla di pomodoro questa mattina un luogo ordinato e molto diverso dalla bolgia di poche ore prima merito degli organi preposti alle pulizie ma anche di festeggiamenti che secondo l'aggiornamento mattutino delle forze dell'ordine non hanno lasciato grossi strascichi di disordini o danneggiamenti al di là di qualche episodio di bidone vandalizzato in viale trieste e dopo che lo iesino roberto mancini ha portato l'italia di calcio sul tetto d'europa ci sono altri sportivi marchigiani pronti a farsi valere su campi da gara altrettanto planetari sono gli atleti e i 15 marchigiani in partenza verso le olimpiadi di tokyo oggi l'amministrazione della regione marche li ha voluti incontrare tanti in presenza d'ancona altri in collegamento da remoto con l'in bocca al lupo del governatore francesco acquaroli a poche ore dalle trionfo dell'amico roberto mancini diciamo che in un periodo difficilissimo come quello che stiamo attraversando nel nostro paese sicuramente lo sport sta dando veramente una mano per una ripartenza all'insegna della fiducia lo abbiamo visto in questi giorni con la nazionale di calcio quanto il paese veramente si sia trasformato e abbia respirato aria positiva io sono convinto che questo avverrà anche grazie ai giochi olimpici ma sono anche convinto per quanto riguarda le marche che avranno anche un qualcosa in più perché nel calcio abbiamo tifato tutti perché c'era roberto mancini in questo caso abbiamo una delegazione di ben 25 marchigiani che in vari ruoli andranno a rappresentare la nostra regione intanto è stato un'olimpiadi tanta sospirata per tutti dall'anno scorso siamo passati a quest'anno ci siamo allenati non abbiamo fatto gare abbiamo fatto soltanto una livello internazionale diverse nazionali quindi noi la affrontiamo sempre convinti di aver lavorato tanto di di essere pronti e curiosi di vedere quello che sarà perché sicuramente l'olimpiadi senza il pubblico è una cosa un po strana per tutti soprattutto per gli atleti che raffronteranno per la prima volta comunque l'olimpiadi è sempre un'emozione grande un'emozione forte dovremo andare avanti per il nostro obiettivo e concentrarci su quello che è il nostro obiettivo appunto che è la gara io sono felicissimo perché oggettivamente è stato bello vedere queste settimane gli italiani poter tornare un po anche per il tramite dello sport a vivere qualche serata tranquilla dopo tanti mesi di restrizioni e di lockdown zone rosse zone arancione molto pesante è stato un momento di aggregazione di soddisfazione di orgoglio e credo un punto di riscatto per la nostra regione che ha visto un marchigiano doc alla guida della nazionale che conquista dopo tantissimi anni i campionati europei gli ho mandato un messaggio ma credo che roberto mancini in queste ore sia impegnato in altre cose ed ora il punto sulla pandemia in particolare sulla campagna vaccinale che da oggi ha visto partire una serie di open day di vaccini monodose johnson & johnson per le persone sopra i 60 anni sono iniziati oggi gli open day per le vaccinazioni agli over 60 a pesero fano e urbino resta maggioritario il dato degli ultra sessantenni marchigiani che già si sono immunizzati con la doppia dose del siero ma regione e asur non mollano sull'ampliamento della campagna questa volta utilizzando il vaccino monodose fino al 30 luglio gli over 60 potranno infatti presentarsi senza prenotazione all'ex arresto di pesero al codma di fano o al bocciodromo di urbino e ricevere il vaccino anti covid johnson & johnson in un'unica dose una possibilità che sarà resa possibile nella fascia oraria compresa fra le ore 16 e le ore 18 si tratta di un'altra opportunità per la fascia anagrafica più avanzata della popolazione sebbene l'attenzione del sistema sanitario resti soprattutto focalizzata sui giovani solo il 17 per cento dei ventenni ha completato la profilassi vaccinale nelle marche così come lo ha fatto solo il 20 per cento dei trentenni ancora troppo pochi per sentirsi al sicuro anche perché la variante delta resta uno spauracchio che alleggia sulle marche la nostra regione come sicilia campagna e abruzzo è fra le quattro sotto osservazione per il monitoraggio del mantenimento della zona bianca la settimana andata agli archivi si è infatti chiusa con la media di 16 casi positivi ogni 100.000 abitanti un dato in lieve crescita rispetto agli ultimi giorni ma che tiene ancora al riparo la regione dai 50 casi ogni 100.000 abitanti che determinano la zona gialla sotto stretta osservazione però l'andamento dei contagi della settimana che è cominciata oggi come ogni lunedì con dati ridotti all'osso per quel che riguarda contagi e tamponi 9 i nuovi casi positivi 0 quelli in provincia di pesaro urbino il tutto su 845 tamponi processati ospedali intanto quasi svuotati 10 li ricoverate nelle marche 2 quelli in terapia intensiva questa mattina è stata inaugurata a pesaro la nuova sede della will marchi si trova in via togliatti a villa san martino e a tagliare il nastro della nuova sede sindacale era presente oggi anche il segretario nazionale della will pierpaolo bombardieri presidio sul territorio e capacità di ascolto ancor più incisive questi i principi alla base della nuova sede del sindacato will delle marche che è stato inaugurato oggi a pesaro in via togliatti alla presenza del sindaco matteo ricci e del segretario nazionale della will pierpaolo bombardieri una presenza a pesaro che da un'ulteriore sottolineatura alla necessità sindacale di rimboccarsi le maniche in tema di occupazione e blocco dei licenziamenti noi riteniamo che mai come in questo momento ci sia bisogno di sindacato noi ci siamo per essere vicini alle esigenze dei cittadini dei lavoratori dei tanti pensionati questa è una sede che si apre in un quartiere popoloso pieno di persone proprio perché questo deve fare il sindacato deve aprirsi alle persone che siano lavoratori e cittadini questo è un momento è un momento difficile cominciamo a vedere un po di luce in fondo al tunnel però è un momento in cui bisogna essere coesi ripartire insieme con un progetto preciso per l'italia ma per il nostro territorio dovremmo combattere la disoccupazione dovremmo rivedere quello che è anche proprio il nostro l'assetto del nostro tessuto produttivo quindi ci deve essere una grossa progettazione perché le risorse del dell'europa del recovery plan anzi della next generation sia diventino un volano per la crescita e noi come qui ci siamo ci siamo con l'apertura delle sedi nel territorio ci siamo con il nostro impegno quotidiano bombardieri a pesaro ha pubblicamente enfatizzato quanto sia fondamentale ampliare la capacità d'ascolto del territorio e quanto la will sia attualmente all'opera nei tavoli di confronto col governo draghi a tutela dei lavoratori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ed ora una serie di appuntamenti che riguardano queste prossime due settimane delle mese di luglio cominciamo da domani martedì 13 luglio quando la lega navale di pesaro ospiterà il navigatore solitario scrittore nonché direttore d'orchestra roberto soldatini con il suo stradivari un violoncello del settecento con il quale altererà alcuni pezzi del concerto la musica del mare alla lettura di brani del suo ultimo libro denicia approdi nella pandemia soldatini ha fatto parte dell'orchestra del teatro dell'opera di roma e dal 2011 vive sulla sua barca a vela domenica 18 luglio invece piazza rinascimento a urbino sarà il palcoscenico del massimo lopez e tullio solenghi show i due artisti della comicità e dell'intrattenimento torneranno insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano in uno show in cui sono interpreti e autori codiuvati dalla jazz company del maestro gabriele comeglio uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si sono superate le duecento repliche si avvia la terza con sempre rinnovata passione e venerdì 23 luglio alle ore 20 al centro di degustazione rurale la coppa di monbaroccio si terrà la seconda edizione della cena in giardino per ant una serata nelle verde all'insegna del buon cibo e della solidarietà con parte del ricavato della cena destinato infatti all'assistenza specialistica domiciliare gratuita che garantita da ant nel territorio appuntamenti di questo luglio e altri che ci lasciamo alle spalle nel weekend appena trascorso le telecamere di rossini tv questo sabato sono state a fermignano dove si è celebrato il quarantesimo compleanno dell'azienda midoro una eccellenza assoluta nella produzione di detergenti e prodotti per la pulizia quarantesimo anniversario sul quale rossini tv ha realizzato uno speciale che potrete vedere sui nostri schermi mercoledì 14 luglio alle 21 e 15 ed ora parliamo di teatro dopo 20 anni giovanni paccapello non è più il presidente dell'associazione amici della prosa che organizza il gad festival di arte drammatica paccapello resterà comunque presidente onorario dell'associazione mentre il nuovo presidente sarà maurizio sebastiani dopo un passaggio di consegne avvenuto oggi nel comune di pesaro per me è un grandissimo onore e una grandissima responsabilità questa di assumere questa presidenza soprattutto dopo una presidenza così lunga e così proficua e così concreta di Giovanni paccapello il mio intento è quello di cercare di emularlo di mantenere almeno i livelli così alti di questa associazione culturale che è così importante nel panorama della nostra città cercando anche di avere qualche impegno di salire a qualche altro gradino non è facile perché già abbastanza alta bisogna stare attenti a non farsi girare la testa e perdere l'equilibrio quindi bisogna mantenere i piedi per terra ma con voglia di andare avanti e proseguire perché c'è tanta voglia di andare avanti c'è molta voglia di cimentarsi con la normalità e il teatro rappresenta anche il mondo della vita quotidiana che viene rappresentata sulle scene ma è la vita quotidiana di tutti noi e che dopo un periodo così tormentato e che continua ad essere tormentato purtroppo di cui non è che abbiamo in visione la fine è importante che ci sia questa voglia appunto di ricominciare di rinascere e di rimettersi in gioco e in discussione e di cercare tra virgolette una normalità perduta di cui abbiamo però grandissimo bisogno Io certamente resto un appassionato del teatro e del teatro amatoriale in particolare quindi la passione non si può dimenticare con un passaggio di consegne quindi resterà sempre un pallino particolare che mi ha accompagnato per tanti anni che poi è diventato affetto poi è diventato amore la conoscenza di tante persone tanti personaggi in giro per l'italia che hanno dedicato alla loro vita a cercare di capire che cosa quegli autori volessero davvero rappresentare con il loro documento e come loro avrebbero potuto portarlo sulla scena anche questo è un compito sicuramente interessante e piacevole quello di andare a riscoprire un testo e di vedere mai in quanti altri modi io lo posso rappresentare e quindi l'amore per il teatro naturalmente rimarrà Forse il riferimento al teatro che si è fatto stamattina è proprio quello è raro che un luogo come quello del Consiglio Comunale che ha ospitato questa conferenza fosse ospitasse degli applausi stamattina ce ne sono stati tanti perché era veramente doveroso riconoscere a Giovanni Paccapello il merito di una carriera molto lunga e di straordinario successo per la nostra associazione e tutto questo successo che è inevitabilmente anche una responsabilità sulle spalle di Maurizio Sebastiani che però nella sua carriera ha già dimostrato di avere delle spalle molto molto robuste quindi siamo molto molto fiduciosi e felici che sia passato nelle sue mani le redini della nostra associazione E in municipio oltre al passaggio di consegne da Paccapello a Sebastiani sono stati anche annunciati i vincitori del terzo premio drammaturgico Antonio Conti ne abbiamo parlato con il presidente della giuria del premio Francesco Corliano Sì, diciamo che anche quest'anno ce l'abbiamo fatta nel senso che purtroppo pandemia e corollari vari insomma ci hanno creato dei problemi abbiamo dovuto prolungare la scadenza del bando i testi che hanno vinto della categoria degli over 35 mai rappresentati over 35 sono Quella notte all'idroscalo di Carlo Selmi un testo che affronta appunto tutte le vicissitudini del delitto di Pierpaolo Pasolini e secondo classificato invece un testo particolare La Zata di Gericò in cui l'autore Carlo Longo ha scritto un libro diciamo biografico su Gericò da cui poi ha tratto il testo teatrale che ha partecipato al concorso C'è una particolarità quest'anno che altri due premi non sono stati assegnati Il premio nella categoria under 35 e il premio nella categoria già rappresentati non sono stati premiati Perché? Perché i testi erano sì ottimi però non erano compiutamente drammaturgici cioè mancava qualcosa per far sì che il testo quando poi diciamo viene messo in scena rappresenti veramente un testo teatrale quindi la giuria ha deciso poi di non assegnare il premio ma di menzionare due autori il pubblico, il testo del pubblico Salvatore Zappia e Silvia di Federico Maria Giansanti E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport e con il calcio di serie C Continua infatti il calciomercato della Vispesero con quattro nuovi acquisti comunicati negli ultimi tre giorni Oggi sono stati ufficializzati gli ingaggi dei difensori under classe 2001 Francesco Paolo Cosumano che arriva a Pesero in prestito dal Cagliari e del classe 2000 Leonardo Mastrippolito messosi in luce in SRD con la maglia dell'Epineto Ieri è stato ufficializzato invece l'ingaggio del centrocampista mancino classe 1999 Gabriele Denuzzo proveniente dal Como mentre sabato era stato messo nero su bianco con Alessandro De Respinis 28enne attaccante protagonista nell'ultima stagione con le maglie della Prosesto e del Piacenza E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News Prima di salutarci però vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra prima serata alle 21.15 in questa sera di lunedì dedicata agli eventi estivi delle comune di Monte Labate e invece per chi ancora non l'avesse fatto vi invitiamo a scaricare l'app di Rossini TV uno strumento fondamentale per avere sempre a portata di click la possibilità di vedere i nostri programmi, consultare le notizie o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi